Voglio anche dire una cosa, voglio dedicarla a chi sostiene queste donne, abbiamo parlato prima di chi contrasta le donne, allora voglio ringraziare la mia famiglia, voglio ringraziare la mia migliore amica, voglio ringraziare una persona che adesso non c'è più, tre mesi fa è mancata mia mamma, se io oggi sono qui e sono su questo palco è per l'esempio che mi ha dato lei, ed è un esempio bellissimo perché è stata una donna coraggiosa, è una donna che mi ha insegnato che in ogni ruolo che tu svolgi, dal più umile al più importante devi guardarti intorno e dare il meglio di te, perché chiunque ha bisogno deve trovare sempre una mano tesa e mai essere sola. Fantastico, questa dà grande forza a tutte le donne in una situazione difficile come questa, che vogliono tentare, vogliono riuscire, ma spesse volte sono ostacolate e quindi insomma forza. Guardate, c'è sempre sempre una mano tesa, bisogna guardarsi intorno e scoprirla, perché è sempre possibile e la testimonianza la troviamo qui, quindi sono testimone ma siamo testimoni, non si è soli, credetemi, e io voglio testimoniare questo. Grazie mamma.